Volevo dirvi grazie perché siete tantissimi, siete tantissimi a vedere un film insieme perché la visione collettiva è fondamentale e allora io volevo ringraziare voi, volevo ringraziare i ragazzi del Cinema America, i ragazzi del Cinema Troisi perché restituire al cinema la visione collettiva è restituire al cinema il vero senso profondo. Voi solo vedendo un film insieme potete capire che cos'è un film e allora volevo ringraziare voi e i ragazzi. Grazie.